Ebbene sì, dopo quasi due anni di partner su Twitch in cui non ho dato praticamente nessun vantaggio ai subscriber ho deciso di dare questo piccolo premio settimanalmente quindi ogni settimana, per adesso penso di fissare l'estrazione alla domenica estrarrò una persona per un coaching il vincitore estratto mi indicherà il game sul quale vuole il coaching e che si svolgerà su Discord con la condivisione schermo poi ci metteremo d'accordo su una data per effettuare il coaching che sarà in streaming e poi metterò anche su YouTube probabilmente perché comunque penso faccia piacere anche a voi vedere un coaching su Champions specifici ovviamente i coaching saranno solo sulla top lane perché è la lane che gioco e se magari il vincitore dell'estrazione non è interessato a un coaching per la top lane per qualsivoglia motivo, gli farò una mystery skin insomma perché magari questo main addi Gary, perché gli è stato simpatico che faccio, gli devo fare il coaching sulla top lane per forza chiedono, mystery skin e siamo tutti contenti diciamo quindi vi ricordo che vado in streaming praticamente ogni giorno la mattina non sempre però il pomeriggio praticamente sempre e niente, vi saluto e non dimenticate l'hashtag FreeFieric e... bella!